ciao ragazzi siamo qui con una nuova puntata di netgate a db a breve partiamo per il silent treffen mirko sei pronto sono pronti e le moto anche qualcosina però ci siamo ok siamo arrivati alla preparazione appunto del casco per l'occasione abbiamo comprato dei caschi bellissimi nuovi tra l'altro tutti i decorati con le libri e di chi è no no eccole qui carine belle molto belle tra l'altro ringraziamo tanto alessandra seguiti alessandra moriana su instagram e lei e sì abbiamo un po ripreso i colori che abbiamo usato anche per la gibraltar race quindi il blu e il giallo istituzionali di netgate però bando alle ciance perché oggi vogliamo parlare appunto di sena nuovo partner di netgate a db da gennaio di quest'anno che sarà il partner per la comunicazione quindi kit viva voce bluetooth e intercomunicanti per parlare moto 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 pilota e anche per parlare in trade all'interno di più gruppi di persone che hanno questi prodotti una grandissima pure l'attenzione nel dettaglio nella rifinitura degli oggetti e soprattutto molta molta pure attenzione nella tecnologia in essi contenuta perché dobbiamo ben ricordare che utilizzano gli standard di comunicazione più sofisticati che ci sono in commercio attualmente hanno delle gettate a livello radio molto molto performanti con una ricostruzione del segnale rumore che ti permette di avere un grande livello di affidabilità e di coerenza nella comunicazione anche a distanze veramente invidiabili si parla di un sistema circa di un chilometro e mezzo ma poi mi ricordo che dicevo appunto anche maria di sera che mi ha incontrato a verona che nel caso in cui il soggetto all'interno del gruppo si allontanasse troppo appena si riavvicina nel raggio dell'interfondo si riconosceva in automato e poi una cosa che ci tengo a precisare è la semplicità del montaggio di questi prodotti se che hanno dimmi non è tramontato però faccio io è sempre bello quindi ci siamo ragazzi ci vediamo al silen treff e poi ho capito l'ho spiegato dei video e vabbè ma te l'ho detto che dobbiamo andare a sud ok